ciao a tutti sono seventighi all'interno di battlestar galactica oggi gran giorno prendiamo la ricompensa del quinto giorno pacchetto nave linee oggi è gran giorno perché compreremo la nave surtur e c'è lo sconto navi consegniamo gli incarichi di ieri compare da tutto perfetto lasciamo in sospeso container e navi minerarie che non ci interessano per ora facciamo un salto ftl e ci reghiamo alla base eccoci qui prendiamo nuovi incarichi e andiamo a prenderci questa surtur che da tradizione si va a comprare essendo nave nuova a tartalon quindi io rispetto la tradizione notte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti